La prima dell'Allianz Poker Tour qui a Porto Maso a Malta è terminata, è stato un ottimo successo, 226 entries per un prize pool di quasi 80.000 euro e un vincitore, Antonio Greco, un calabrese che si è portato a casa, oltre alla gloria della vittoria, una prima moneta da 20.000 euro. Ora è il momento però di andare dai fondatori dell'Allianz proprio per conoscere quali sono i vantaggi di aderire e far parte di questo progetto. Un evento per noi splendido, diciamo fiore all'occhiello di un progetto che è nato neanche un anno fa e che sta crescendo su bene. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono tanti e molteplici. Per ogni realtà che vive di poker o comunque che gravita attorno al poker, io poi lascerò la parola anche ai miei colleghi che potranno illustrare ognuno il vantaggio relativo al proprio settore. Io vi posso parlare della realtà casino che è la realtà nella quale vivo. Allianz, APT è un progetto di Allianz, uno dei tanti. APT è una festa, la festa di Allianz appunto, dove tutti i giocatori, tutti i club, gli organizzatori vengono qui a vivere un'esperienza da casino che è diversa dal solito torneo. Qui c'è qualcosa in più, c'è un clima di festa, c'è un valore aggiunto che diamo a tutte le realtà che partecipano rendendoli importanti, facendoli vivere un'esperienza da organizzatore. Loro non sono semplici porter, loro sono organizzatori a tutti gli effetti, così hanno modo anche loro di crescere e di vedere da vicino questa realtà. Allianz nasce dai circoli, nasce dal poker quello fatto in casa, quindi questa cosa è molto bella perché dà la possibilità ai giocatori che normalmente sono abituati a giocare nei circoli di esprimere la loro passione anche nei casino, quindi a livello un po' più internazionale. I vantaggi importanti per quel che mi riguarda, anche perché quello che è stato fatto con APT come in realtà è il pilasso di Allianz è quella dell'aggregazione tra i circoli. Siamo riusciti ad aggregare tanti circoli insieme in Puglia, penso che lo faremo anche per tutta l'Italia, quindi la volontà è quella di aggregare tanti circoli, portarli poi nei casino insieme, fare nuove conoscenze. Quando si parla di aggregazione per me va anche al di fuori di quello che è il fine stesso del Texas Hold'em, perché una delle esperienze più belle che ho vissuto con APT nell'aggregazione dei circoli è che si sono conosciuti i giocatori di tutta la Puglia, il giocatore foggiano ha fatto amicizia con il giocatore leccese, sono diventati amici, sono scambiati contatti, sono nati amori, quindi aggregazione proprio a livello personale, umana, quindi questo concetto qua è un concetto fondamentale che come APT noi in Puglia abbiamo già sviluppato e che sarebbe molto bello anche da svilupparlo a livello nazionale, cioè far conoscere, far scambiare idee, far scambiare, anche perché poi nel discutere, nel parlare poi vengono fuori tante idee che possono essere utilizzate nei circoli, i dealer, i programmi da utilizzare, il materiale da utilizzare, tante cose che fa comunque crescere sempre di più il prodotto a livello nazionale. Fondamentalmente questo per me è uno dei grandi vantaggi che oggi dal punto di vista di aggregazione Allianz potrebbe dare. I vantaggi già si hanno visti dalla tappa 1 adesso, perché abbiamo fatto la tappa 0, come sapete che è andata abbastanza bene, questa volta è andata ancora meglio, questo grazie alla collaborazione di tutti i quattro pilastri, della Puglia, della Sicilia e di noi della Campania. Chiaramente noi invidiamo a tutti i circoli di aderire, perché vi daremo tutti i supporti che avete bisogno per poter funzionare meglio e per poter crescere come stiamo facendo noi. Sicuramente Acesbook è un partner importante in questi termini e sicuramente ogni singolo circolo ha l'opportunità di creare un gruppo, un gruppo non soltanto nelle attività giornaliere, ma delle trasferte che diventano delle vere e proprie vacanze poker. Allianz non è soltanto un torneo di poker, ma è un evento nella quale ci si trova un sacco di amici e quindi si inizia a parlare un po' di sociale. Da lì poi utilizziamo tutti i network più famosi, quindi Facebook, social network, Acesbook stesso, quindi le clip video, i tavoli finali, crescita di streaming, quindi sicuramente la comunicazione è il via libera per la crescita di ogni singolo circolo e quindi perché no partecipare ad Allianz. Quindi invito tutto a contattarci tramite social network, numeri di telefono, i nostri contatti sono un po' ovunque tramite Acesbook, e a chiederci informazioni, dettagli di questo progetto che continueremo a portare avanti con tanta grinta e tanta buona volontà, sperando di fare sempre meglio. Quindi vi aspettiamo e grazie davvero, 226 volte, grazie a tutti. Ciao!